Panico tra i tifosi della Juventus dopo che Gianluca Di Marzio ha dato una notizia negativa sul trasferimento di Douglas Luiz in bianconero, bloccata l'operazione perché c'è ancora da risolvere il nodo McKennie. Ma è davvero così? Sì? In bianconero manca l'intesa definitiva tra McKennie e il club inglese, parti al lavoro per risolvere. E allora qualcuno dei tifosi, anzi molti, dicono ma come non era già fatta Douglas Luiz alla Juventus, vedi si è bloccato tutto, potrebbe saltare. Il problema è che si fa ancora fatica a capire che 1. Di Marzio non dice necessariamente tutto giusto e tutto quello che dice è assolutamente vero e 100% credibile, anche lui può sbagliare. E 2. Nel calciomercato ci sono degli intoppi che ci possono sempre essere, ci sono dei dettagli burocratici da superare, ma questo non significa che l'operazione possa saltare. A volte quando c'è un intoppo è semplicemente perché c'è da superare un ostacolo a livello appunto burocratico, a livello legale, a livello di cifre, ma non c'è mai in quell'intoppo la possibilità che salti tutto. Oltre al fatto che proprio per questo discorso degli intoppi e dei possibili ostacoli c'è anche la tendenza da parte di giornali e giornalisti di raccontare un po', di enfatizzare anche un po' questi intoppi e queste problematiche in determinate trattative anche per provare a sbloccarle. Quindi la domanda piuttosto è nell'interesse di chi va questa notizia, diciamo che Di Marzio ha detto tutto giusto e tutto vero, ma nell'interesse di chi va la notizia che il trasferimento si è bloccato perché McKennie non ha ancora l'accordo con il club inglese? Potrebbe essere proprio nell'interesse della Juventus, teoricamente, ovvero di spingere McKennie a darsi una mossa ad accettare le condizioni del club inglese, quindi dell'Aston Villa. Anche se secondo altre ricostruzioni in realtà l'accordo che manca non è tra McKennie e l'Aston Villa ma è tra McKennie e la Juventus perché McKennie vorrebbe la buona uscita. La buona uscita non solo viene ceduto ad un club inglese importante di vertice di Premier League, ad un grande allenatore, in Premier League comunque, con la possibilità di accettare i termini contrattuali che meglio crede e McKennie non ha comunque uno stipendio altissimo alla Juventus, quindi non è stato difficile probabilmente per l'Aston Villa proporgli dei termini contrattuali migliori, ma vuole pure soldi per andarsene nel momento in cui non è padrone, diciamo, di liberarsi come vuole perché non è titolare del suo cartellino non essendo svincolato o in procinto di svincolarsi, bensì il cartellino è di proprietà della Juventus. Quindi comportamento a dir poco offensivo e irrispettoso della Juventus da parte di Weston McKennie ma ci sta che in certe situazioni c'è chi ci prova. Da un altro punto di vista invece potrebbe essere proprio nell'interesse di McKennie una notizia del genere nel senso di dire ecco dovete fare di più cara Juventus, devi fare di più, mi devi offrire di più, altrimenti vedi situazione in stallo e io ti blocco questo trasferimento che comunque ha una sua scadenza, bisogna chiudere entro il 30 giugno per l'interesse economico sia della Ston Villa che della Juventus. Ma ormai è tutto fatto, mancano appunto solo questi dettagli e queste scaramucce non fanno altro che confermare che Douglas Lewis è un nuovo giocatore della Juventus con lo scambio con McKennie e Eileen Junior più circa 20 milioni di conguaglio. Da capire poi se saranno 20 milioni e basta o 20 milioni inclusi i bonus e con quali termini di pagamento premesso che sicuramente si tratta di una cessione immediatamente a titolo definitivo e non di uno scambio di prestiti. Quindi i tifosi della Juventus che vogliono agitarsi e preoccuparsi ma questo vale per i tifosi di qualunque squadra perché è stata messa in giro questa o quell'altra notizia possono tranquillamente, sono liberissimi di preoccuparsi ma farebbero bene invece a stare tranquilli e a non credere ogni volta a chiunque parla sul calciomercato specie ai soliti che vengono ritenuti infallibili che quando parlano ci hanno ragione ed è tutto vero quello che dicono. Il calciomercato si può vivere anche in maniera diversa, evolutiva, cioè smettendola di credere sempre e comunque alle stesse persone e di conseguenza aspettandosi solo da loro la verità con tutto quello che ne consegue dal punto di vista emotivo e psicologico. Grazie a tutti.